taglio di alberi sul foglia insorgono gli ambientalisti moto contro un albero muore un cinquantasettenne di tavuglia vaccini nelle marche via alla quarta dose per i soggetti fragili roff partita la direzione artistica di flores sport vis senza pause dopo cesena arriva il pescara buonasera siete su rossini tv questo è il telegiornale ufficiale di questa emittente si chiama rossini news questa sera in apertura parliamo di una tematica ambientale che sta facendo discutere tutta la città infatti sugli argini del fiume foglia sono partiti i lavori del consorzio di bonifica delle marche che prevedono un taglio selettivo di alberi per prevenire rischi idraulici secondo diverse associazioni ambientaliste sono state però abbattute centinaia di piante in maniera ingiustificata in questo mese di febbraio sono partiti i lavori sul fiume foglia lavori annunciati sugli argini effettuati dal consorzio di bonifica delle marche per un'opera legata alla mitigazione del rischio idrogeologico lavori che erano annunciati come un taglio selettivo delle specie arbore non è d'accordo però sull'argomento italia nostra così come diverse associazioni ambientaliste la lupus in fabula vvf lega ambiente si parla di un taglio indiscriminato di centinaia di alberi secondo queste associazioni che hanno denunciato la cosa con un esposto è stato un taglio selettivo per la mitigazione del rischio idraulico e quindi non si capisce perché abbiano ruspato abbattuto tutto ed è insomma come minimo inaudito noi abbiamo ricevuto segnalazioni anche le altre associazioni si sono schierate contro questo tipo di attività dato che poi nel nel versante a monte non è stato fatto niente di tutto ciò il rischio idraulico ovviamente è una cosa molto importante però non ci sono state esondazioni in tempi recenti e se non appunto via toscana c'è stato qualche anno fa nel 2005 mi sembra e però era c'era stato anche proprio un taglio dell'argine per dei lavori in corso avevano lasciato una parte completamente sterrata e aperta è chiaro che il fiume lì è esondato però è un caso rarissimo ma a parte questo insomma non si può arrivare a quel punto anche perché come ripeto perché a monte cioè nel tratto precedente non è stato fatto quello che è stato fatto adesso da via ponchielli fino al ponte della ferrovia e poi vogliono arrivare fino al ponte vecchio qui ci troviamo al termine di via dell'acquedotto alle porte del parco 25 aprile parco al quale non si può accedere in questi giorni come potete vedere tutta l'area è transennata ma l'area che a poche decine di metri dal corso del fiume foglia porta i segni di questo disboscamento colossale cataste cataste di legno che sono state depositate in questa zona agli arcini delle fiume una situazione per la quale italia nostra ha presentato denuncia di approfondimento ai carabinieri di ancona e al gruppo forestale di pesaro si richiedono accertamenti per capire se tutto corrisponde alle normative vigenti per giustificare questo disboscamento noi abbiamo chiesto una verifica e perché appunto questo questa autorizzazione al taglio selettivo dovrebbe essere rispettata e speriamo che almeno si possa evitare che dal tratto del ponte della ferrovia fino al ponte vecchio questa parte di vegetazione sia salvata. Ed ora passiamo alla cronaca altro sangue purtroppo sulle strade dopo la morte nel weekend di un 46enne di Sant'Ippolito ieri sera ha perso la vita un uomo di 57 anni di Tavuglia schiantandosi con la sua moto contro un cipresso in via Cassandro strada che collega San Giovanni Marignano a Fanano di Gradara. La vittima si chiamava Pier Giorgio Dorazio e abitava a 5 chilometri dal luogo dell'incidente da chiarire le cause di un impatto che non gli ha lasciato scampo riducendo la moto BMW a un cumulo di macerie accartocciate. E cambiamo completamente argomento perché da domani alle ore 17 nella regione Marche partiranno le prenotazioni per le vaccinazioni anti covid attraverso il Nova Vax. Si tratta di un primo vaccino proteico il cui funzionamento differisce dagli altri finora utilizzati. Grazie all'azione di proteine purificate presenti al suo interno che sono state selezionate per produrre la risposta immunitaria. Altra novità dal primo marzo nelle Marche partirà la campagna di vaccinazione con quarta dose per i soggetti fragili che presentano un'importante compromissione della risposta immunitaria. E continuiamo a parlare di covid, un andamento molto positivo perché continua a calare il numero dei ricoveri da covid-19 nella nostra regione Marche, un dato diminuito di 7 unità rispetto a ieri che si attesta ora a 294 pazienti nella regione di cui 31 in terapia intensiva. Continua ad abbassarsi anche l'incidenza da contagio arrivata a 820 casi ogni 100.000 abitanti, 1.858 quelli registrati oggi di cui 319 in provincia di Pesaro Urbino. Sette i decessi segnalati oggi di età compresa fra i 69 e i 98 anni. Ci occupiamo ora di un'operazione a sostegno dell'emergenza abitativa. Negli ultimi tre anni a Pesaro sono stati stipulati ben 3.000 accordi d'affitto a canone concordato, accordi dalla forte valenza sociale che sono stati presentati oggi in Comune e che rappresentano un punto d'incontro fra associazioni di inquilini e proprietari di immobili, come ci spiega in questo prossimo servizio Stefano Donnini che è responsabile dello sportello Casa del Comune. L'accordo sul canone concordato è una tipologia contrattuale che è alternativa ai contratti liberi, ha però di positivo una grossa valenza sociale e un grosso impatto sulla gente perché lo scopo del canone concordato è quello di ridurre i canoni rispetto al libero mercato e facilitare l'incontro fra proprietari inquilini e quindi soddisfare il bisogno casa che è un bisogno importante come altre cose primarie. Ed è uno strumento di alta efficacia perché ha incontrato l'interesse di tutte le parti sociali e funziona proprio come ammortizzatore sociale perché chi fa i canoni concordati ha un vantaggio fiscale a livello di tributo nazionale con la riduzione al 10% come cedolare secca e l'IMU comunale quindi il tributo locale si riduce dal 10,6 al 5,25% per mille scusate quindi questa riduzione della tassazione favorisce una riduzione del canone assoluto come valore totale per non danneggiare gli interessi dell'una e dell'altra parte e quindi porta molti risultati. Quelle novità a livello sostanziale non sono modificate a livello normativo ed economico però non essere cambiate molte cose di questa natura è importante perché a livello economico ci sono mantenuti i valori del 2019 quindi è rimasto stabile il valore del canone d'affitto diviso ovviamente per zone e per tipologia però il canone è rimasto sempre quello è una cosa importante tenuto conto anche delle crisi diciamo economiche pandemiche. Ed ora torniamo a parlare del progetto che ci anticipò circa un mese fa l'assessore Enzo Belloni e che partirà ufficialmente dal prossimo marzo come annunciato dallo stesso assessore. A Pesaro infatti i cittadini percettori del reddito di cittadinanza saranno coinvolti nella cura del verde urbano e in servizi di pulizia cittadina attraverso un progetto che coinvolge Marche Multiservizi e ambito territoriale sociale 1. Per marzo sono state individuate già 16 persone che si alterneranno 8 ore a settimana ciascuno come previsto dai cosiddetti patti per il lavoro e l'inclusione sociale. Marche Multiservizi coordinerà il calendario degli interventi che nei prossimi mesi si punta ad allargare al coinvolgimento di 50 percettori di reddito di cittadinanza. Ed ora cambiamo argomento parliamo di scuola e di una didattica che sta cominciando il rush finale del secondo quadrimestre. Oggi le nostre telecamere si sono accese nelle aule di centro studi di Pesaro per capire come viene affrontato questo delicato periodo dopo i tanti disagi derivati da mesi di didattica a distanza. In una scuola alle prese con un faticoso tentativo di rientro alla normalità dopo tanta didattica a distanza febbraio apre una finestra sugli ultimi mesi dell'anno scolastico particolarmente delicati non solo per i maturandi. A centro studi luogo di formazione in via Montello nel centro storico di Pesaro si intensificano le preparazioni sia in forma collettiva che individuale. Il mese di febbraio è un mese spartiacque perché noi ci prepariamo con gli studenti che frequentano i nostri corsi collettivi del mattino e anche con gli studenti adulti che svolgono preparazione individuale ci prepariamo al rush di fine anno cioè a preparare gli esami di fine anno compreso per chi fa la quinta l'esame di maturità. Quindi la preparazione scolastica per gli esami di fine anno ma anche è il mese in cui diverse famiglie ci chiedono un aiuto per delle preparazioni intensive per i propri figli che magari hanno riscontrato alla consegna delle pagelle dei problemi nelle varie scuole pubbliche del territorio. Servizi di formazione che spaziano dal mattino alla sera conciliando anche le esigenze degli studenti lavoratori. I nostri servizi quindi sono la preparazione scolastica per studenti giovani che svolgono frequentano i corsi collettivi del mattino e la preparazione individuale per gli studenti adulti lavoratori che invece frequentano prevalentemente in orario serale e quindi il mese di febbraio è un momento in cui noi iniziamo specificamente la preparazione in vista degli esami di fine anno. Dopodiché soprattutto nella seconda parte dell'anno quindi nel secondo quadrimestre il servizio di ripetizioni in varie materie diventa molto più intenso perché sia gli studenti che hanno la maturità sia anche gli studenti degli altri anni ci chiedono di colmare le lacune, di svolgere preparazioni individualizzate per sistemare magari alcune materie in cui hanno avuto voti carenti alla consegna delle pagelle. Per la didattica è un 2022 partito all'insegna dei riscontri di un ultimo rapporto in Valsi che ha visto l'acquirsi di diverse carenze d'apprendimento figlie delle bienio di pandemia. Dall'ultimo appunto rapporto in Valsi è venuto fuori che i ragazzi un po' in tutta Italia sono carenti sia nelle materie letterarie come l'italiano, l'inglese e anche matematica. Quello che stiamo notando noi aiutando anche ragazzi non solo diciamo in preparazione alla maturità ma un po' di tutte le classi è che ultimamente c'è bisogno proprio di recuperare le lacune che la DAD in questi due anni e poi in quest'anno che è stato un po' singhiozzo perché un po' andavano a scuola e un po' no, c'era bisogno di recuperare appunto le lacune nelle varie materie anche in materie che normalmente in altri anni bastava studiare. Capitano spesso ragazzi che chiedono aiuto in storia, in filosofia per schematizzare, per trovare anche un metodo di studio che gli aiuti comunque ad avere una maggiore chiarezza che molto spesso purtroppo non riescono ad avere in questa situazione un po' difficile insomma. Quello che notiamo poi è che da parte dei ragazzi poi c'è una voglia comunque di di apprendere nel senso che chi viene comunque anche a chiedere una mano è sempre molto propenso a recuperare quelle che sono state le lacune perché considera comunque anche lo studio, il suo impegno importante insomma. E poi un'altra preoccupazione che in questo momento sta un po' interessando i giovani e lo vediamo anche dai telegiornali è un po' l'esame di maturità. Erano abituati in questi ultimi due anni a vedere l'esame orale, il maxi orale, adesso siamo tornati alle prove scritte. Io da parte mia posso dire che sono contenta che il tema è stato riportato perché è fondamentale che loro sappiano scrivere. Ai ragazzi che vengono qui al mattino la prima cosa che dico è noi faremo tanti temi perché il tema vi servirà in futuro anche solo per fare una relazione lavorativa, non serve solo per i cinque anni superiori. E noi ci stiamo esercitando tanto sia sulle tipologie di tema ma ci si può esercitare anche sulle tipologie delle seconde prove perché sarà comunque tutto basato sugli esami degli anni precedenti quindi non è un lavoro diciamo da zero ma è un lavoro che si può fare tranquillamente. Noi quei nostri studenti lo facciamo tranquillamente la mattina gli stiamo dando le indicazioni per fare una buona riuscita nella prima e nella seconda prova perché le capacità diciamo ce li hanno c'è solo bisogno di lavorare un po' più intensamente in questo periodo qua. La provincia di Pesaro Urbino ha ufficializzato oggi il progetto definitivo per l'istituto Raffaello di Urbino che sarà demolito e ricostruito nella stessa sede in un'operazione da 10 milioni di euro metà dei quali intercettati dai fondi del PNRR. Sarà una completa riqualificazione dal punto di vista energetico e sismico. I lavori dovrebbero partire entro la fine del 2022 e concludersi nel 2024. Nel frattempo i 650 ragazzi dell'istituto saranno trasferiti nella sede provvisoria individuata nell'edificio adiacente che è già stato ristrutturato dalla provincia. Domani mercoledì 23 febbraio partono le due settimane rossiniane previste in occasione del buon non compleanno Rossini. Si comincia domani alle 17.30 al Museo Nazionale Rossini col primo appuntamento della rassegna Uno alla volta per carità. Storie di personaggi alla corte di Rossini. Si tratta di una serie di incontri organizzati dalla fondazione Rossini nati per raccontare vita e opere di donne e uomini che hanno intrecciato la propria vita con quella del genio pesarese. Lo studioso e critico letterario Enrico Capodaglio parlerà dello scrittore francese Stendhal, autore della vita di Rossini. Ed è legato alle settimane rossiniane anche l'appuntamento con la stagione di danza al teatro sperimentale domani e giovedì sempre alle 21 con la giovane compagnia Cataclò che si immerge nella lirica rossiniana trasportando il pubblico in Rossini Grand Hotel. Lo spettacolo si svolgerà a Pesaro in prima assoluta con coreografie di Giulia Staccioli e Vito Cassano. E continuiamo a parlare di spettacolo, continuiamo a parlare di musica perché è partito il nuovo corso del Rossini Opera Festival con la direzione artistica affidata al tenore peruviano Juan Diego Flores in questi giorni presente proprio a Pesaro per pianificare le prossime edizioni della rassegna musicale. Per l'edizione 2022 del Rossini Opera Festival Juan Diego Flores sarà ancora in quello che è il suo habitat naturale da 30 anni. Ad agosto il tenore peruviano calcherà infatti il palcoscenico della 43esima edizione delle Ross nell'interpretazione del conto Ri, ma intanto è già pronto ad allargare la sua dimensione artistica sulla pianificazione delle edizioni che verranno. Da novembre scorso Flores è stato infatti nominato nuovo direttore artistico del Ross, un nuovo ruolo che il tenore ha commentato nel weekend nella sua prima uscita pubblica a Pesaro alla presenza del sovrintendente Ernesto Palassio, del presidente Daniele Vimini e di Cristian della Chiara che sarà il direttore generale del festival per il triennio 2022-2024. Sono molto contento di essere a ricoprire questo ruolo, molto onorato, sono sicuro che col team che abbiamo faremo un lavoro molto buono per le stagioni, per le edizioni successive e sono contento perché ero già molto legato a Pesaro e adesso ancora di più. Con la mia esperienza potrò dare un contributo mi pare importante per le scelte artistiche delle edizioni del futuro, quindi sono molto contento in questa nuova fase della mia vita artistica. Io continuo a cantare, continuo a fare la mia carriera, anche a cantare qui nel festival, quindi faccio questo dopo, lavoro che mi piace e continuo a cantare anche per il mondo e quindi molto contento e onorato. Per Flores la programmazione dei festival futuri saranno frutto di un lavoro gomito a gomito con Palassio che sarà arricchito dai tanti spunti di novità assorbiti dal tenore peruviano nella sua agenda di impegni planetari già densa di recital e opere fino al 2030. Beh sempre si cerca di portare qualcosa di nuovo, stiamo pensando a nuove idee e quindi anche cose che vedo nel mondo perché nel mondo viaggio tanto e quindi si vedono cose che si fanno, nuove cose e quindi si possono anche fare qui. Quindi ancora stiamo parlando facendo un po' di brainstorming per capire cosa può andare bene nella situazione del festival. Il maestro Palassio, il sovrintendente ed io stiamo lavorando sulla prossima edizione. Continua il nostro report quotidiano sulle tante iniziative che vedono coinvolta la regione Marche presente come ben sapete all'Expo di Dubai 2022. Nelle prossime interviste ci occuperemo di sviluppo turistico e tecnologico con l'assessore Guido Castelli e l'amministratore delegato di Med Group Stefano Parcaroli. Il presidente Acquaroli ha voluto assegnare un ruolo strategico alla proposta turistica delle Marche, una regione bellissima, meravigliosa ma che ancora fa registrare, questo è il dato degli anni scorsi, una presenza turistica prevalentemente nazionale e domestica. Siamo a Dubai per questo, stiamo sviluppando un'agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione che ha prevalentemente questo scopo, quello di realizzare politiche integrate perché il turista del mondo possa incrociare il destino delle Marche. Da questo punto di vista molte sono le suggestioni su cui stiamo lavorando in tutte le latitudini del mondo ma quello che è più importante è estrarre la massima percentuale di valore economico da questa campagna promozionale per le Marche. Questo vuol dire unire anche la bellezza con il prodotto, da questo punto di vista tipicità è per l'appunto una di quelle associazioni che ha lo scopo di interpretare e declinare proprio quella che è una proposta articolata che crea turismo e crea prodotto interno lordo. Noi come Med Group Holding siamo fieri di essere qui presenti a Dubai, ringraziamo la regione Marche e il sistema dell'università marchigiane per averci permesso di essere qui a presentare la nostra azienda, il nostro gruppo e le nostre soluzioni. In questo contesto abbiamo presentato un concetto a nostro avviso innovativo che è quello di Fijiverse che è un mix tra mondo fisico e mondo digitale quindi non tanto metaverse come ricostruzione di mondi virtuali ma visto che viviamo in un mondo bellissimo, la nostra Italia lo è ancora di più e visto che abbiamo molta storia, molta cultura e grandissimi atenei che ci possono permettere di creare contenuti molto innovativi e di grandissimo prestigio. Noi parliamo di una realtà virtuale basata sulla realtà reale come ricostruzione della realtà reale nella quale andare ad aggiungere poi tutti i contenuti, tutti i servizi del mondo digitale. E concludiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di sport. La Vispesaro continua a giocare ogni tre giorni e prosegue all'insegna di un'altra big del campionato. Dopo l'immeritata sconfitta di Cesena domani alle ore 21 al Benelli arriva il Pescara. Ragionamenti su due partite che l'allenatore della Vispesaro Marco Banchini ha presentato questa mattina in una conferenza stampa seguita dal nostro Giorgio Ricci. Quello che io devo portare a casa da allenatore è che i contenuti che ci sono stati hanno portato a poche occasioni offensive rispetto a quello che è stato fatto. Nel calcio contano solamente i gol e poi contano i tiri in porta e noi per quello che abbiamo fatto, io devo sempre guardare l'aspetto da migliorare, dobbiamo migliorare in quello, quindi dobbiamo arrivare a fare come la partita prima che abbiamo fatto 5-6 tiri in porta da dentro l'area e dobbiamo ripeterci, soprattutto quando hai così tanto controllo del gioco e dal punto di vista della malizia, del carattere, della voglia di non farsi mettere sotto, lì invece siamo in netta crescita, siamo dentro quello che è l'obiettivo stagionale e oggi dobbiamo pensare solamente che domani sarà una partita difficilissima contro un avversario forse sulla carta ancora più pronto, ancora più forte, ancora più talentuoso del Cesena perché è una grande squadra che è retrocesso dalla Serie B e che nel mercato di gennaio si è rinforzata e noi siamo la Vispesaro che sta crescendo e riusciremo come vi avevo detto a essere protagonisti dentro la partita. Dobbiamo capire come essere protagonisti e in che modo poter sfruttare le incertezze del Pescara. Sarà una partita diversa da quella di Cesena, secondo me comunque essendo già il secondo infrasettimanale ci possono essere degli episodi chiave, delle disattenzioni, degli episodi singoli che possono determinare ancora di più di quello che poi sono le tendenze di gioco e la costruzione del modello sull'identità di tutte e due le squadre. È normale che noi sappiamo cosa fanno loro, i loro punti di forza le criticità e dobbiamo, come dico sempre, approfittarne. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma prima vi comunico per chi non avesse seguito la nostra diretta di oggi che la partita Meta Catania-Ital Service-Calcio a 5-Pesaro sia conclusa con un 4-3. Adesso invece andiamo a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV. Innanzitutto, come tutti i martedì, c'è questo bellissimo documentario che ci porta indietro alla Seconda Guerra Mondiale, Una volta a Fan, Ceren e Campanì. È un documentario di Gastone Mazzanti. Nella terza puntata, quella che vedrete questa sera alle 21.20, si parlerà proprio della distruzione dei campanili a Fano. E poi vi ricordiamo l'appuntamento di domani con la nostra rassegna stampa, ci sarò io con voi in diretta alle 7.20, quindi vi aspetto sul canale 633 oppure collegati sulla nostra pagina Facebook. Mentre vi ricordiamo anche che domenica il consueto appuntamento della messa su Rossini TV, domenica saremo alle ore 11 in diretta dalla parrocchia Santa Maria Regina in Borgo Santa Maria. Quindi seguite questo appuntamento molto voluto da tutti voi. Grazie per averci seguito, adesso per voi il meteo per vedere come sarà il tempo i prossimi giorni. Buona serata.